Buonasera a tutti amici di Rubrica Rosso Nera, altra bella, bella vittoria, vittoria molto, molto importante. Una vittoria che ci porta e ci consolida al primo posto, una vittoria che ci porta a 23 punti, a più 5 sull'Inter, a più 5 sul Sassuolo, a più 6 sulla Juventus. Stasera 20.45 andrà in onda, andrà in scena Roma-Napoli, partita delicata, partita importante. Chiaramente noi ci auguriamo un pareggio perché vorrebbe dire che il Milan rimarrà primo per distacco di 5 punti. Veniamo alla partita, una partita che ha visto un Milan cinico, un Milan impressionante, un Milan cattivo, un Milan dinamico, un Milan direi veramente feroce. Un Milan che nonostante le tantissime assenze, l'assenza di Zlatan Ibrahimovic, l'assenza di Rafael Leao, l'assenza di Castilleco che in qualche modo pregiudicavano a livello numerico il reparto offensivo, l'assenza di Ben Nasser, ancora la poca integrità fisica di Musacchio, il fatto di non avere Mr. Pioli, erano tante le incertezze, erano tante le incognite, erano tante le possibili difficoltà, ma il Milan ha offerto una grande prestazione, in qualche modo dimostrando di essere e di stare arrivando ad essere una grande, grande squadra. Una Fiorentina che è stata dominata dall'inizio alla fine, una Fiorentina che è stata in qualche modo limitata dalla squadra allenata da Mr. Bonera, una squadra che ha giocato molto molto bene a livello tattico, una squadra che difende molto alto, una squadra che fa grande pressing e che ha veramente meritato la vittoria. Un Milan che vince 2-0, complice anche l'errore dal dischetto il secondo di Chessy, fa niente Frank, grandissimo, era dal 2018 che non sbagliava un rigore. E soprattutto anche Gigio Donnarumma è stato decisivo, veramente molto bravo in due occasioni, con due miracoli, ha salvato la porta rossonera. Tre punti fondamentali, tre punti importantissimi che portano il Milan a essere ancora lì, ancora lì a sognare le zone nobili della classifica. È successa una cosa molto carina, una cosa molto carina che ha riportato Milan TV, ovvero che al termine della partita i giocatori Donnarumma si è intrattenuto in una videocall con Stefano Pioli. E soprattutto in questo messaggio è un messaggio importante che ci arriva perché è un messaggio di vicinanza, del gruppo, una vicinanza, un legame importante con l'allenatore Stefano Pioli. Ha parlato anche Daniele Bonera, ha parlato a Dazon Postgara dicendo che il Milan è cresciuto molto in autostima grazie a tantissimo lavoro quotidiano e al piacere di lavorare insieme e di soffrire tutti insieme. Ha parlato anche di che effetto li fa a Bonera stare in panchina, stare con i ragazzi, ha detto sono molto contento e soddisfatto. Questa squadra ha un grandissimo anatore che è Stefano Pioli, siamo ansiosi di rivederlo a Milanello. Ha sempre sottolineato Bonera il rapporto che ha con Mr. Pioli, una bravissima persona, una persona molto competente che gli sta trasmettendo tanto a lui come allenatore. Ha parlato di Gigio che è un giocatore importante, un giocatore che l'ha dimostrato anche oggi, ha parlato dell'importanza di Davide Calabria che ha avuto una crescita esponenziale a livello di personalità. Mentre Simon Kier ha detto è un giocatore che ha grande esperienza, che la mette al servizio della squadra, serviva questa esperienza alla squadra, è un giocatore affidabile, un vero leader e un uomo vero. Quindi grandi parole per Simon Kier. Ha parlato anche di che sì, dicendo sappiamo tutti l'importanza di Frank, lo dimostra tantissime partite. È un giocatore di qualità, è un giocatore di quantità, è un giocatore di forza, ma sa anche e ha migliorato tanto anche nella gestione della palla. Una crescita realmente continua. Ha detto su Romagnoli, dicendo non ha visto l'esultanza, un'esultanza che potrebbe essere stata un pochino polemica dopo le tante voci non troppo positive. Anche da noi di Rubrica Rossonera che abbiamo dato qualche frecciatina al capitano, ma oggi ha risposto con una grandissima prestazione e un gran bel gol. Quindi meno male sta tornando il grande capitano, grande Alessio Romagnoli. Ha parlato del saluto di Pioli a fine partita, è un gruppo sano, ha detto Bonera, è un gruppo con dei grandi valori. Abbiamo fatto la videochiamata nello spogliatoio, non vediamo l'ora che ritorni a Milanello. Ha detto cosa vede in questo Milan, vede un altro piccolo tassello, il Milan sta alzando l'asticella, questa vittoria completa è il puzzle e sapeva che la squadra avrebbe avuto delle difficoltà contro la Fiorentina, ma questa squadra ha reagito veramente da grande squadra nonostante l'assenza. E quindi un Milan veramente molto, molto importante. Permettetemi, una prestazione anche di tonali 6,5, una prestazione in crescita, sta toccando più palloni, ancora gli manca quel bricio in più di personalità, ma la qualità, il passaggio c'è da Noglu, filtrante, il passaggio di Rebic con Lille. Sta tornando Sandro, giustamente bisogna aspettarlo, il ragazzo giovane con due giocatori come che sia Benaster può sicuramente crescere e può sicuramente essere un valore aggiunto per questa rosa. Bravi tutti ragazzi, bella vittoria, continuiamo così, forza, forza Milan! Ciao a tutti e buona domenica!